Bentornati ragazzi, io sono Oxanax e oggi andremo a scoprire una delle stanze segrete che si trova nella regione di Kalyed Forse non tutti lo sanno, ma c'è una stanza segreta dove potete trovare qualcosa di incredibilmente potente Quindi prima cosa da fare, andiamo qui Kalyed Come potete vedere dalla mappa Ehm, no Ok Ok, siamo qui, perfetto Uno sottorrente Accendevo la torcia Ok, andiamo a cercare la stanza segreta Babbabbabbabbabbabbapp Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.